Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del diabete istituita nel 1991 per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulla malattia, la sua prevenzione e gestione. Anche in Alto Chiascio sono previste iniziative grazie ad ADE, l'associazione Diabetici e Ugubini, attiva da 26 anni nel territorio. Nei comuni della fascia peninica è previsto l'automonitoraggio della glicemia e pressione arteriosa a tutti i cittadini per il 12 e 13 novembre. Saremo presenti su più piazze e su tutta la fascia dell'Alto Chiascio. Partiremo dal sabato 12 novembre con le due punti delle ambulanze sia al centro di Gualdotadino che alla COP sempre di Gualdotadino mattina e alla mattina. Nel pomeriggio ci sposteremo a Fossato di Vico che andremo lì al centro commerciale sulla via Ugubina. Domenica saremo la mattina a Sigillo, proprio lì piazzati davanti al comune di Giardini e nel pomeriggio saremo a Scheggia. La tre giorni si concluderà poi a Gubbio il lunedì 14 novembre con gli stick glicemici in mattinata, la passeggiata pomeridiana nel centro storico e infine l'incontro con le istituzioni a Palazzo Pretorio. In serata luci blu si accenderanno sui monumenti simbolo dei comuni coinvolti nell'iniziativa per accendere i riflettori sul diabete. Tutti i comuni della fascia comunque ci hanno accolto bene e sono stati contenti perché tutti quanti vogliono la prevenzione. La prevenzione ed è quello che noi facciamo. Facciamo con la dietista, facciamo con l'infermiera dedicata che insegna la terapia diabetica, facciamo con lo psicologo che comunque ti aiuta. Queste sono tutte figure messe dall'Associazione Diabetici. Ad oggi sono aumentate le difficoltà di un diabetico nel ricorrere alle cure dell'ospedale, alle cure dei dottori? Assolutamente sì, assolutamente sì. Resta difficilissimo gli accessi all'ospedale, non ci sono gli appuntamenti, vanno lunghissimi e tanto più perché se tu chiedi una visita al CUP ti possono mandare anche a Città della Pieve o anche a Castello o anche non so dove, però non è più assolutamente niente come prima e gli appuntamenti sono meno, meno, meno. Quindi la gente, abbiamo sentito persone che ci hanno detto che preferiscono non curarsi piuttosto che andare in giro destra e sinistra a vedere altri dottori, anche perché la malattia del diabete non è che le improvvisi, cioè devi ridire tutta la storia di quando è venuto il diabete, come ti comporti, è difficilissimo ogni volta cambiare medico e questo lo stiamo ribadendo, stiamo combattendo perché il diabetico sia curato in ospedale e sia insomma seguito dalla diabetologia.